Azione Civile, il movimento politico fondato da Antonio Ingroia, è parte integrante della lista Io non voto i soliti noti, che sarà presentata tra venerdì e sabato prossimo agli organi preposti per l'accettazione dei simboli e delle candidature per la competizione elettorale del 25 e 26 giugno. La scelta di partecipare alle elezioni è nata dalle varie mobilitazioni e dalle lotte sociali e culturali intraprese in questi ultimi anni nel Molise. Azione Civile è parte integrante di questa lista con il candidato presidente Emilio Izzo. C'è necessità di tante cose, intanto di segnare la differenza tra, diciamo, anche programmatica e politica rispetto ai due poli intercambiabili, direi io, per cui abbiamo dei punti molto importanti che sono parte delle nostre lotte che abbiamo fatto in questi anni, a iniziare dei problemi con delle persone con disabilità, a iniziare dalla necessità di una legge regionale costituzionale che rimetti al centro il servizio sanitario pubblico, ma il servizio sanitario in questa regione che non rispetta soprattutto ILEA in questo momento. Abbiamo la questione del lavoro e anche qui noi abbiamo idee ben precise di ritornare alla centralizzazione dei servizi attraverso una società in house della regione compartecipata dai comuni. Abbiamo tante idee da mettere in campo e tante, diciamo, battaglie che abbiamo portato avanti che vogliamo rimettere al centro del dibattito politico. I programmi che sono importantissimi, ma soprattutto le minoranze in questa regione e più di altre regioni non hanno rappresentanza politica. Abbiamo una legge elettorale con lo sbarramento all'8%. Questa è una carenza grave democratica che abbiamo in questa regione dove non c'è la possibilità di portare la voce delle minoranze dentro il Parlamento. Una delle prime cose che noi pensiamo di fare, una proposta di legge elettorale per cambiare quella del 2017, perché è fondamentale per questa regione avere una rappresentanza che sia anche una voce altra rispetto a quello che vediamo solitamente. maggioranza e opposizione che si scelgono e ognuno mantiene la sua parte.